L'incidente aereo L'ho ucciso tutti quelli che erano a bordo E i piloti? Uccisi Da chi? Da me In realtà io ho sparato al primo Lui ha sparato al secondo Accidentalmente Cosa che capitano Dopodiché mi sveglio Sono nella mia camera Non ho idea di come ci sono arrivata Poi vado da April Perché devo provare un ridicolo vestito E arrivano degli altri tizi Altri agenti Signorina, le spiace salire in macchina un momento? Mi rapiscono E mi ritrovo in una specie di incubo Sull'Interstatale 93 Ehi June Grand bel vestito Scusa un attimo Da paura Perché mi accarezzi la mano? Ti sono vicino Non c'è niente di strano April sta per sposarsi E deve essere frustrante No, 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 ok Ciao June Forse non sono stato abbastanza chiaro Ma noi dobbiamo restare insieme Mi scusi, lei chi è? È quel tizio Sono il tizio E lui è il tizio Sono il tizio È il tizio Per favore Però tu mi senti Qualunque cosa Per favore Resta dove sei Di che cosa sta parlando? Ehi, ehi, ehi Tutti a terra Se qualcuno ci segue Uccido prima me e poi lei Al tre Pronta? No Oh mio dio Scusa Mi ero spaventata Che numero preferisci? Tre Sì, facciamo al tre Va bene Ok